Buongiorno ragazzi, cominciamo il video che riguarda le disequazioni di primo grado con l'interno dei radicali. Ho fatto un video molto simile che riguardava le equazioni e infatti gli steps sono molto simili a parte il terzo. Vediamo perché. Beh, come nelle equazioni bisogna portare le x a sinistra e i numeri a destra, raccogliere la x che conterrà numeri interi e anche dei radicali. Bisogna fare in questo caso grande attenzione al numero che moltiplica la x. Perché? Quando io divido a destra e a sinistra per un numero in una disequazione, devo stare attentissimo. Perché se il numero che in questo caso moltiplica la x è negativo, quando lo divido a destra e a sinistra io devo cambiare verso. Questo cosa significa? Ho preparato due casi. Nel primo caso, quello a sinistra, x raccoglie radice di 2 meno 1. Radice di 2 meno 1 è un numero positivo perché radice di 2 fa 1,414. Quindi quando vado a dividere di qua e di là per radice di 2 meno 1, non mi preoccupo perché essendo positivo non devo cambiare verso. Come vedete il maggiore resta maggiore. Quando invece, e guardiamo a destra, la x moltiplica radice di 2 meno radice di 3, è radice di 2 più piccolino di radice di 3. Quindi il numero radice di 2 meno radice di 3 è sicuramente un numero negativo. Quindi quando io devo dividere di qua e di là, quindi destra e sinistra, per radice di 2 meno radice di 3, posso ma il verso cambia ed è un errore gigantesco. È il peggiore non cambiare il verso. Quarto step, ovviamente, dopo essere stato attento al cambiamento di verso oppure no, razionalizzo. Possiamo quindi cominciare a fare due esercizi in cui vi faccio vedere soprattutto la pericolosità di dividere per dei numeri negativi. Cominciamo quindi con il primo esempio. Come vediamo, la prima cosa che possiamo fare è sviluppare le tonde. Allora, questo 3 moltiplica, visto che è 3 primi, moltiplica soltanto sopra. Quindi diventa 3x meno 3 fratto 1 per 2, 2. Non siamo ancora al primo step perché adesso dobbiamo fare il minimo comune denominatore. Quindi tutti questi sono divisi per 1. Continuo a ripetere che è meglio fare così, così non si sbaglia. 2 diviso 1, 2, quindi viene 2 radice di 2x meno 2 diviso 1, 2 per x. Mentre qui è 2 diviso 2, 1 e quindi 3x meno 3. Adesso posso moltiplicare di qua e di là per 2. 2 è un numero positivo, quindi posso sicuramente farlo senza dover cambiare il verso. Quindi mi risulta 2 radice di 2x meno 2x maggiore di 3x meno 3. Ora faccio il primo step, cioè porto a sinistra tutte le cose con la x e a destra tutti i numeri. Quindi viene 2 radice di 2x meno 2x meno 3x maggiore di meno 3. A questo punto faccio lo step 2, cioè raccolgo la x e viene 2 radice di 2 meno 2 meno 3 maggiore di meno 3. Adesso mi accorgo ovviamente che questi posso sommarli tra di loro perché sono numeri interi, quindi viene 2 radice di 2 meno 5 maggiore di meno 3. Ora siamo al punto fondamentale in quanto devo dividere di qua e di là per 2 radice di 2 meno 5. E mi devo chiedere ma 2 radice di 2 meno 5 è un numero positivo o negativo? Allora o si fa con la calcolatrice oppure si osserva ad esempio che il quadrato di 2 radice di 2 è 8 e il quadrato di 5 è 25, quindi 8 è più piccolo di 25 e così 2 radice di 2 è più piccolo di 5. Quindi se io vado a dividere di qua e di là devo cambiare il verso, quindi viene questi qui vanno via e quindi viene x con il verso cambiato, quindi prima c'era il maggiore, adesso c'è il minore, di meno 3 fratto 2 radice di 2 meno 5. Quindi abbiamo cambiato il verso e ora mi manca il quarto step, cioè razionalizzare. Come si fa a razionalizzare? Semplicemente moltiplico, visto che vi è una differenza per la somma e adesso mi muovo verso destra per fare la razionalizzazione, cioè sopra ho meno 3 che moltiplica 2 radice di 2 più 5, sotto ho questa quantità che moltiplica questa quantità, quindi viene il quadrato del primo meno il quadrato del secondo. Continuiamo e abbiamo finito, perché viene meno 3 che moltiplica 2 radice di 2 più 5, allora il quadrato di 2 radice di 2 sarebbe il quadrato di 2 per il quadrato di radice di 2 che viene 4 per 2, infatti avevo detto che faceva 8, meno 25. Continuiamo, allora 8 meno 25 fa meno 17 e visto che sotto io non voglio mai dei numeri negativi, mi accorgo che posso tranquillamente cambiare segno sopra e sotto, quindi la soluzione diventa x minore di il numero che abbiamo ottenuto a destra, ma che se ricordo bene era 3 diciassettesimi che moltiplica 2 radice di 2 più 5. Eccoci al secondo esercizio che in realtà è più semplice del primo ma potrebbe trarre in inganno per un motivo. bisogna semplicemente fare le tonde e ci accorgiamo che 6x e 6x, essendo da entrambe le parti, vanno via. Quindi viene in realtà un numero molto semplice, cioè 2 radice di 2x maggiore di meno 15. Ora, ovviamente quando c'è soltanto un numero, cosa vuol dire raccogliere? Posso anche farlo, significa che se raccolgo la x, il numero che moltiplica la x è solo questo. Facciamolo per seguire gli step. Ora io divido di qua e di là per 2 radice di 2, ora 2 radice di 2 è assolutamente un numero positivo, quindi questo va via e quindi risulta x maggiore di meno 15 fratto 2 radice di 2 e sarebbe finito, solo che devo razionalizzare. Ora, per razionalizzare mi basta moltiplicare sopra e sotto per radice di 2. Perché? Perché io devo assolutamente manzionalizzare, devo moltiplicare questo numero per questo numero qui. Me ne frego quindi di questo 2, perché questo 2 moltiplica un radicale e lui non è un radicale, quindi non va razionalizzato. Devo solo razionalizzare loro due. Quindi viene meno 15 sopra radice di 2, quindi ho fatto il prodotto tra i numeratori, sottoviene, allora, questo 2 che io non ho toccato sta assolutamente qui, mentre radice di 2 per radice di 2 fa un altro 2, perché radice di 2 per radice di 2 lo potete vedere in due modi, o come radice di 4, che quindi fa 2, oppure come radice di 2 alla seconda, dove la seconda e la radice vanno via, e quindi viene ancora 2. Quindi in tutti i casi viene 2. L'esercizio è finito perché questo numero quindi è uguale a meno 15 radice di 2 fratto 2 per 2, 4, e quindi posso andare a scrivere il risultato, cioè x maggiore di meno 15 quarti radice di 2.